Il fatto che Aftar non abbia ancora firmato il documento fa capire quanto sia complessa l'equazione libica e quanto sia importante che tutta la comunità internazionale, a cominciare dai partecipanti alla conferenza di Berlino, possano lavorare su una stessa agenda. Nel raggiungimento di questo primo, anche se fragile risultato, l'Italia ha fatto la sua parte. Abbiamo indicato e perseguito l'obiettivo di una tregua coltivando il dialogo ad oltranza con tutte le parti, anche quando in pochi lo ritenevano realistico. Ma la strada è ancora molto lunga e difficile, richiede un impegno costante e corale. Lo sforzo diplomatico di queste ore da parte di Turchia e Russia, che non vede ancora la firma del cessato del fuoco da parte dei due principali attori di questo conflitto, dimostra che nessun paese da solo può pensare di risolvere una crisi così complessa. L'intera comunità internazionale è chiamata a lavorare in maniera corale per addivenire ad una conclusione e noi vogliamo seguire questa strada. In uno scenario in continua evoluzione abbiamo accolto con favore l'annuncio da parte tedesca della data della conferenza di Berlino il 19 gennaio. È una buona notizia, rappresenta un importante passo in avanti. Se è stato possibile individuare questa data domenica è anche grazie all'incessante lavoro dell'Italia con tutti gli attori di questa complessa crisi. Impegno testimoniato dai ringraziamenti che la Germania ha rivolto all'Italia nell'ultimo Consiglio Affari Esteri straordinario dell'Unione Europea dello scorso venerdì, riconoscendo come determinante proprio il lavoro del nostro paese.